Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, istituita da Giovanni Paolo II, già presidente dell'Agenzia per il Terzo Settore, ma lei tutti la chiamano il professore, professore a Bologna, la sua casa, ma prima a Parma e la Bocconi a Milano, la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, l'Università Sofia di Loppiano, quante altre non lo so. Mi ha colpito che mentre lei preparava il suo curso sonorum, studiava a Oxford, insieme però frequentava Donoreste Benzi. Io sono di Dirimini e quindi ho conosciuto all'età di 14-15 anni Donoreste Benzi, fondatore della comunità Giovanni Paolo, Giovanni XXIII, e devo molto a lui, perché da lui ho imparato il metodo sia dello studio, ma soprattutto quella strategia di vita che oggi è nota come Etica delle Virtù. L'ultimo Benzi viene rappresentato in maniera un po' edulcorata come il sacerdote dalla tonaca lisa, ma non era così. Il primo Benzi era uno che studiava e ha dato dei contributi fondamentali sia sul fronte, diremmo oggi, della psicologia che della stessa economia. Senta professore, come si fa a far capire un po' di più l'economia? Cioè bisogna studiarla per esempio anche a scuola, che dice? No, l'economia è una disciplina affascinante. Il punto è che negli ultimi decenni è stata rovinata dagli stessi economisti che l'hanno resa una disciplina tecnica. Quando è ovvio che la componente tecnico-analitica, in particolare matematica e statistica, gioca un ruolo, ma gioca un ruolo sussidiario, non centrale, perché l'economia nasce in Grecia, Aristotele, 2400 anni fa, oikos nomos, quindi nasce da una costola della filosofia morale. Per cui chi dice che l'economia è una scienza tecnica o oggettivamente neutrale, dice delle grandi sciocchezze, perché l'economia è quella disciplina che aiuta le persone che vivono in società a risolvere i problemi legati ai bisogni fondamentali. Affascinante, ma lei parla di economia etica, di finanza responsabile, di civilizzazione del mercato. È un utopista, prof? No, no, questa non è un'utopia, tant'è vero che si sta un po' alla volta realizzando. Il paradigma dell'economia civile è nato in Italia, precisamente a Napoli, 1753, e nasce nel 1753, quando l'Università di Napoli Federico II istitui la prima cattedra al mondo, sottolineo, al mondo di economia. Quindi l'economia come scienza accademica nasce a Napoli, non in Scozia, dove c'era Adam Smith, che peraltro aveva la cattedra di filosofia morale. E nasce sulla base di una tradizione che affonda le sue radici tra il 1300 e il 1400, che è il secolo dell'umanesimo civile. Il 1400 è il secolo nel quale la scuola di pensiero francescana dà vita a quella che di lì a poco sarebbe stata chiamata economia di mercato. Quindi dire economia di mercato civile e parlare di dottrina sociale della Chiesa è la stessa cosa. Il punto è che per colpa degli economisti queste cose non si sono più insegnate, non si sanno e quando si è nell'ignoranza ovviamente si ha pure in buona fede e si commettono errori. Professore mi spiega cos'è il paradosso della felicità e come dovremmo davvero calcolare il nostro PIL? Paradosso è una parola greca che vuol dire sorpresa, meraviglia. Il paradosso della felicità viene scoperto nel 1974 in America dall'economista Richard Esterly, correlando l'aumento del reddito pro capite con l'indicatore sintetico della felicità, mettendola in ascissa in ordinato, ottene una curva a forma di parabola. Quando il reddito pro capite è basso la gente è infelice, mangia male, non si può curare e via discorrendo. Il reddito cresce, l'indicatore di felicità cresce, ma ha superato una certa soglia che allora lui nel 1974 identificò i 22 mila dollari a testa all'anno, ulteriore aumento del reddito anziché far aumentare l'indice di felicità lo fa diminuire. Ecco perché si chiama paradosso, perché invece ci era stato insegnato malamente da cattivi maestri che per essere sempre più felici bisognasse accumulare sempre più soldi, diventare più ricchi. Dove sta l'errore? Nel confondere l'utilità con la felicità. Se il mio reddito aumenta e la mia ricchezza aumentano, è chiaro che ho più utilità ed è vero, ma l'utilità è una cosa, la felicità è un'altra. In che senso allora Robinson Crusoe è un personaggio negativo? Cioè non è un eroe ma è il modello dell'individualismo spinto che oggi domina il nostro mondo? Perché Robinson Crusoe è effettivamente la metafora dell'uomo del mercato capitalistico. Robinson Crusoe mette al primo posto la propria sussistenza e non per nulla riesce a vivere oltre vent'anni da solo nell'isola e quindi applica quel paradigma che è noto come il paradigma della scelta razionale. Però non riesce a stabilire rapporti. Quando incontra venerdì nell'isola deserta la prima cosa che fa lo rende servo, gli dà da mangiare, cioè gli toglie perché stava per essere ucciso, gli salva la vita, però lo fa sentire altro da sé. Ed è questo il motivo per cui Robinson è uno che sopravvive, ottiene il suo fine, ma è fondamentalmente un infelice, come lui stesso o meglio come il romanziere scriverà nelle ultime pagine del libro. In un certo senso è ancora la penna di un grande romanziere che giocando d'anticipo sui tempi prefigura quello che di lì a poco sarebbe successo. Non dimentichiamo che il romanzo viene pubblicato alla vigilia dello scoppio della prima rivoluzione industriale in Inghilterra. Quindi, ma non è questo l'unico caso, i romanzieri in generale, i letterati giocano sempre in anticipo rispetto agli scienziati. Lei ama la letteratura? Sì, sì, moltissimo. Moltissimo, perché l'altra grande metafora è quella di Ulisse e le Sirene, da un lato, e di Orfeo dall'altro. Io agli studenti le spiego, dico voi preferite essere come Ulisse o come Orfeo? All'inizio mi dicono Ulisse, poi spiego come sono andate le cose e cambiano opinione. La colpa è degli insegnanti al liceo che invece indicano agli studenti come riferimento Ulisse, perché Ulisse è razionale, vuole ascoltare il canto delle sirene, però lui si fa legare al palo e impone ai suoi rematori i tappi auricolari per non sentire. Quindi lui ottiene il suo risultato, ma a quale prezzo? Due. Primo, la perdita della libertà, perché per alcune ore lui non può muoversi, quindi non è il secondo al prezzo della ingiustizia, perché lui trae vantaggio, ma non fa trare vantaggio ai suoi amici rematori. Orfeo fa il contrario. Dante che aveva capito meglio Ulisse, molto meglio degli antichi e di nuovo dei moderni. Rientriamo nell'economia, l'homo economicus è quello cristallizzato nell'espressione homo homini lupus, cioè devo essere felice a discapito degli altri, perché lei parla invece che il fondamento dell'economia civile è l'uomo per natura amico dell'altro uomo. E' proprio così. L'homo economicus non è altro che il precipitato, nel linguaggio dell'economista, della metafora obbesiana homo homini lupus, che però non è di Hobbes 1651, perché Hobbes la prende da Plauto, cioè dal romano. In generale tutte le cose importanti sono nate a Roma, nel 2000 anni fa. Buone e cattive. Poi non l'hanno saputo valorizzare, ma è la verità, è la verità storica. Antonio Genovesi, che è il fondatore del paradigma dell'economia civile, parte da un altro assunto antropologico, homo homini natura amicus. Ogni uomo è per natura amico di un altro uomo e da lì si capisce la differenza tra economia politica e economia civile. L'economista politico parte dall'assunto che tu possa essere un lupo famelico. Allora cosa devo fare io? Devo proteggere e soprattutto devo diffidare chi si fiderebbe di un lupo famelico nessuno, eccetto San Francesco. L'esempio del lupo di Hobbes è veramente importantissimo come metafora. Mentre l'economista civile parte dall'idea che l'altro sia potenzialmente un amico, che ti può tradire, perché anche gli amici tradiscono, però fa la differenza nel modo di impostare la riflessione di natura economica e le proposte di policies. Quindi lei mi sta dicendo che condivisione è una categoria economica, rende? Condivisione, sì, la condivisione nel senso di mettere assieme ad esempio le risorse, mettere assieme le aspirazioni, non solo rende, ma è ciò che consente ad una moderna economia di mercato di avanzare. Sarà pur che qualcuno si chieda come mai, nonostante le brutte cose che succedono e di cui mass media danno quotidianamente informazione, il mondo va avanti. Perché a compensare quelle malefate ci sono opere buone, tante volte superiori, di cui però i giornalisti non vogliono parlare, perché questa è la solita storia del giornalismo, non solo italiano, in base al quale si parte dall'idea che al lettore medio o all'ascoltatore medio interessa ascoltare le brutte cose. E questa è una conseguenza dell'uomo homini lupus. Ecco perché quell'assunto è veramente diabolico. Diabolon in greco vuol dire colui che divide, cioè un assunto divisivo che tende a dividere le persone, quando invece sarebbe tempo di farla finita con queste sciocchezze. Ed è per questo che bisogna non solo non spegnere, ma anzi valorizzare la sussidiarietà che è alla base dell'impegno del cosiddetto terzo settore? Esatto. La sussidiarietà è un principio che ha radici antiche. La prima formulazione esplicita risale a Buonaventura da Bagnoregio, alla fine del 1200. Buonaventura è stato il secondo se a Francesca. A proposito dell'oscuro medioevo? Ah beh, ma quelle sono le sciocchezze che raccontano degli storici che non hanno studiato abbastanza e non hanno avuto accesso a certe fonti, perché i veri storici oggi… Ma non solo gli storici, anche i conduttori televisivi. Ah beh, ma quello sono… perché hanno imparato e hanno letto gli storici cassati. E già Buonaventura da Bagnoregio, uno scritto di fine del 1200, enuncia quello che poi sarebbe stato chiamato il principio di sussidiarietà. Quello che però bisogna sempre chiarire è che la sussidiarietà mette tre versioni, verticale, orizzontale e circolare. La vera sussidiarietà, cioè la versione più forte della sussidiarietà è la terza, quella circolare, di cui oggi si sta cercando con grande fatica di fare intervenire nel dibattito pubblico, soprattutto nel nostro paese, perché è l'unico modo per dare ali ai soggetti del terzo settore. Mi fa un esempio? Circolare vuol dire questo, pensare alla società come un triangolo che ha tre vertici. Un vertice è occupato dall'ente pubblico, Stato, regioni, comuni, l'altro è occupato dal mondo degli affari, delle imprese di tutti i tipi e il terzo vertice è occupato dai cosiddetti corpi intermedi della società e dagli enti che oggi chiamiamo di terzo settore. L'idea è che questi tre vertici devono interagire fra di loro, ecco il termine circolare, per definire sulla base di preordinati protocolli le priorità degli interventi, i modi di finanziamento e soprattutto i modi di gestione. Quindi devono controllarsi anche a vicenda? Esatto, e quindi è il concetto di coprogettazione, che ci arriveremo, perché finora non è mai stato applicato in Italia, nonostante la legge del 2000. La legge 328 del 2000 per la prima volta parla di principio di coprogettazione, dall'ora ad oggi non è mai stato applicato. Qualcuno dirà il contrario perché non sa cosa vuol dire coprogettazione. Coprogettazione vuol dire questa interazione sul medesimo piano senza che nessuno dei tre vertici prevarichi gli altri e dica io sono più importanti di te. Come può interessare al mondo dei mercati, al mondo dell'alta finanza, questo lavoro circolare comune. Interessa moltissimo, perché oggi si parla di economia circolare in relazione alla tematica ambientale, ma l'economia circolare tu la puoi realizzare soltanto se attui la sussidiarietà circolare, altrimenti rimane un vago desiderio. E il mondo della finanza è il primo ad assecondare questo, perché nella condizione storica di oggi caratterizzata dai fenomeni a tutti i noti della globalizzazione, finanziarizzazione dell'economia e soprattutto della quarta rivoluzione industriale, è chiaro che il gioco economico non può più essere svolto all'interno del paradigma bipolare Stato e mercato. Bisogna mettere Stato, mercato e comunità, perché un tavolo non si regge in piedi su due gambe, a bionio dalla terza gamba. Stavo per chiederglielo, che cos'è questa quarta rivoluzione industriale e queste NBC, questo acronimo per nano, bio, infotecnologie e scienze cognitive, mi pare sia così, come cambiano, questo mi interessa, la concezione dell'uomo e dei suoi rapporti sociali. La quarta rivoluzione industriale ha una data d'inizio, il 2001, l'anno in cui Apple introduce, i giovani lo sanno benissimo, iPhone e tutte le altre diavolerie. La quarta rivoluzione industriale non introduce nulla di oggettivamente nuovo, questo era stato introdotto nella terza rivoluzione che inizia dagli anni 70 con internet e dagli anni 70 alla fine del secolo scorso. Qual è la trovata, il colpo di genio della quarta rivoluzione industriale? Mettere a convergenza appunto le nanotecnologie, la robotica, l'intelligenza artificiale, eccetera. Convergenza vuol dire che oggi i robot sono dotati di intelligenza artificiale, prima no, prima erano stupidi, adesso sono intelligenti, cioè sono in grado di correggere attraverso il machine learning i propri errori. È chiaro che questa è veramente un'autentica rivoluzione, perché non cambia solo i luoghi della produzione, nelle fabbriche, ma cambia ad esempio nelle scuole, il modo di insegnare e soprattutto i giovani. I nativi digitali oggi non riescono a dialogare con i migranti digitali, io questo l'ho capito sin dall'inizio, con i miei nipoti e con i miei giovani, rinuncio a come fanno invece quelli di mezza età che cercano di capire no, perché mentre per noi questi nuovi strumenti, queste nuove tecniche sono strumenti, per i giovani non sono strumenti, sono un ambiente, un ambiente di vita, quindi non possiamo mettere sullo stesso piano. Quello che occorre fare, se si vuole, è da parte di chi ha più anni aiutare il giovane a capire qual è il limite intrinseco che questo ambiente nuovo che è accomodante e apre grandi prospettive, nasconde tra le sue pieghe qualche volta è un ambiente soffocante, chiuso, che ci rende soggetti di poteri che non riconosciamo neanche più, perché non li possiamo neanche cristallizzare in una figura. Io penso tutto il tema soprattutto dell'intelligenza artificiale applicato nel campo medico o biomedico come si dice oggi e questo mi spaventa perché è la snaturazione totale dell'antropologia cristiana. Esatto, è proprio così, ma soprattutto quello che occorre secondo me far capire ai giovani è che i nuovi strumenti, mi corrego, questi nuovi ambienti di vita aumentano enormemente i contatti, ma stanno riducendo le relazioni interpersonali. E bisogna spiegarlo però, perché i giovani confondono il contatto con la relazione. La relazione deve essere face to face, io ti devo guardare negli occhi. Il contatto può venire a distanza. Ora noi sappiamo che la felicità o la gioia di vivere non è legata ai contatti, ma è legata alle relazioni interpersonali. Lo diceva già Aristotele quando affermava non si può essere felici da soli, bisogna essere almeno in due, meglio se sia in tanti, ma almeno in due. Ed è questa la ragione per cui, come gli indicatori della felicità pubblica mettono in evidenza, la condizione di vita dei giovani oggi segnala una diminuzione molto preoccupante dei livelli di felicità. I giovani oggi hanno più conoscenze, più utilità, ma meno felicità. Una volta era vero il contrario. Professore, ma lei queste cose le spiega e ne discute così apertamente a pranzo con Papa Francesco? Ah beh, Papa Francesco è un divoratore, è molto più giovane di tanti sedicenti giovani. Secondo lei perché un Papa deve occuparsi di economia, di sociologia? Perché? Perché un Papa deve occuparsi della condizione umana, perché il messaggio di salvezza cristiana, il Papa Francesco è un cristiano, il messaggio della salvezza cristiana per i teologi arriva soltanto alle persone libere. Una persona che non è libera non riesce a ricevere il messaggio di salvezza. Allora un Papa, e con lui tanti altri, si pone il problema. Cosa devo fare per rendere le persone libri, per dilatare gli spazi di libertà? Ci si rende conto che oggi, nel tempo storico di oggi, la condizione economica è una di quelle che impedisce la dilatazione degli spazi di libertà. Per questo l'Accademia della Pontificia delle Scienze Sociali ha questo fine? È proprio così. Questa è stata istituita esattamente 25 anni fa da Giovanni Paolo II, esattamente con questo obiettivo, perché l'Accademia delle Scienze esisteva già da 4 centri. E non vi trovate soltanto a discutere, a fare convegni, per dettare dettami dottrinali? No, 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 assolutamente. La Pontificia delle Scienze Sociali è una macchina che se ricevesse dai mass media e dalla televisione un pochino più di attenzione, sbalordirebbe tutti. All'Accademia non si parla del sesso degli angeli, ma si parla di quei problemi che pongono in questo momento delle sfide alle persone che vivono in società. E le soluzioni alle sfide semplicemente, dice, dovrebbero arrivare un po' più perrivoli a tutti, insomma. Perlomeno a chi si riconosce in un ecumene cristiano. No, no, ma la cosa interessante è che sono molto più i non credenti a prestare attenzione a questo che i credenti, che troppo spesso danno per scontato, perché ritengono che basti la fede. No, la fede, cosa dice San Paolo? Che la fede senza le opere non produce nulla. Ad Assisi, un altro anno, 2020, l'economia di Francesco è inteso come San, non come Papa, almeno. Beh, lì si può discutere. Si può discutere. Allora, l'economia di Francesco si lega al tema dello sviluppo legato alla pace, che poi in fondo era la base anche della Carta di Roma, questo tema, no? L'evento dell'anno prossimo, dal 26 al 28 marzo 2020, è qualcosa di straordinario, perché mai in 2000 anni, nella storia della Chiesa, si era verificato qualcosa di adalo, perché convegni, raduni per discutere della famiglia, della condizione giovanile, se non sono sempre fatti. Ma radunare oltre 500 persone, tra giovani, giovani vuol dire sotto i 35 anni, giovani studiosi di economia, giovani professori e giovani imprenditori, per discutere per tre giorni interi su un modo di implementare in maniera adeguata quelle idee di cui ho parlato prima dell'economia civile, è qualcosa di straordinario. Allora, ascolto, condivisione di idee, e poi? E poi, prassi, ecco perché Papa chiama i giovani imprenditori, perché i giovani imprenditori magari non sono arrivati al top, ma fra qualche anno ci arriveranno, perché devono fare anche loro la carriera. Ma se un giovane imprenditore vuole innovare dentro la propria impresa, fa una rivoluzione, perché se certi discorsi li fa un sacerdote dal pulpito, qualcuno può dire che è per forza il suo mestiere. Ma se un imprenditore organizza il processo produttivo in maniera tale da non sfruttare nessuno, in maniera tale da rendere armonizzabili i tempi di vita familiare, i tempi di lavoro e via discorrendo, questo veramente pone, perché il vero imprenditore ti dimostra che realizza tutto questo senza rinunciare a stare sul mercato e a competere con gli altri. Il che vuol dire, non è vera la favola che ci raccontano, in base alla quale per essere competitivi e realizzare profittabilità occorre sfruttare l'ambiente, sfruttare le persone e via discorrendo. Economia di comunione. Esatto. Che non è appunto una cosa per brave persone. No, esattamente. Che magari ci rimettono anche un po' perché hanno il gusto del sacrificio. Esatto. Senta professore, parliamo un attimo di politica. Perché lei recentemente in un'intervista, mi guarda malissimo, recentemente in un'intervista, ha detto che i cattolici certo non possono rifare l'ADC, ma neppure disperdersi a mo' di lievito nelle varie formazioni politiche perché sarebbe perdente. E l'alternativa allora qual è? Dopo la fine dell'ADC, totale buona fede, è stata teorizzata la diaspora. I cattolici a mo' di lievito nella pasta devono distribuirsi tra le varie... qual è l'errore teorico? Sono spariti tutti. No, non sono spariti. È che in democrazia bisogna raggiungere una certa massa critica per essere influenti. Perché in democrazia vince la maggioranza, o no? Quindi se i cattolici sono presenti al 5% in un partito, in 6% in un altro e il 4% in un altro, non conteranno mai niente. Ed è questa la ragione della frustrazione di tanti cattolici che in buona fede sono entrati in questi partiti e non ha, ma non perché gli altri, come dire, perché alla fine bisogna contarsi. Allora, quello che occorre fare, posto che il partito cattolico non è più proponibile, lo ha detto anche il Papa, non ci sono più le condizioni storiche del partito unico, che non vuol dire che quello che è accaduto nel passato va deliminato. Ma allora, tra la diaspora e il partito unico c'è uno spazio intermedio, che vuol dire che i cattolici devono convergere su una piattaforma e quindi su un progetto di trasformazione del modo di fare politica e presentare questo a tutti. E può essere trasversale ai vari partiti e trovare a scopo nei vari partiti? Ma chiaro, una prospettiva del genere in Italia avrebbe la maggioranza. Però bisogna che il progetto sia di tipo trasformazionale, non riformista. Mi faccia capire la differenza tra questo piattaforma e un altro partito? Perché questo non nasce già con una pre... perché si qualifica per la bontà delle proposte che vengono avanzate. Ecco perché ho detto, gli altri partiti avanzano riforme. Qui bisogna... è il tempo di avanzare progetti di trasformazione. Sulla cui base stendere un contratto che mette insieme varie forze? La parola contratto viene usata, ma è sbagliata a concetto. Chi l'ha usata è perché non se ne intende. La parola contratto è una parola che si usa per le relazioni di mercato, non per le relazioni in politica. Quindi basterebbe quello per capire certi errori concettuali. Ma lasciamo stare le questioni terminologiche. Il punto è che fino ad ora i vari partiti hanno avanzato delle riforme. Pensiamo al caso del sistema fiscale, la riforma di una tassa o dell'altra. No, bisogna trasformare il sistema fiscale perché il sistema fiscale italiano ha questo neo fondamentale che tassa di più il lavoro e l'impresa e non la rendita parassitaria. Secondo, è un sistema fiscale che non riconosce ad esempio il quotiente familiare alle famiglie che hanno più figli. Cioè è oggettivamente iniquo. Allora cercare di mettere delle pezze ad un sistema che è oggettivamente iniquo non può che aggravare il problema. Ma come si fa a cambiare il sistema quando la forza delle ideologie in questo paese è ancora quella degli anni 70, professore? Eh lo so, questo è vero. Però la storia ci ha insegnato che è possibile. Due mila anni fa una persona che si chiamava Gesù di Nazareth ha raccolto 12 persone scalcagnate e penso che abbia fatto qualcosa. E nella storia tutti i grossi processi di trasformazione nascono da piccole iniziative. Nel caso di specie il mondo cattolico italiano non aspetta altro. Io che giro l'Italia in lungo e in largo da nord e sud, la gente normale di Modesto lo chiede. Dice, creiamo delle proposte sul fronte della scuola. Ma la scuola è un disastro, la scuola e l'università. E si continua con la logica delle riforme, quando invece dobbiamo trasformare la scuola. Però per far questo ci vogliono delle personalità. Non mi piace il termine leader, lo borro, però maestri, come li vogliamo chiamare? No, ma ci sono. Ci sono. Tantissime. Più di quanto non si chiama. Il problema è che finora è il principio del tappo di bottiglia. Fintanto che non togli il tappo queste persone non riescono. Perché perché chi fino ad ora ha guidato la danza politica, avvalendoci di un potere spesso economico e finanziario, ha impedito questo. Però le cose stanno cambiando. Io sono certo che non ci vorrà molto prima che nasca una, come dire, proposta politica di questo tipo. Anti-ideologica. Anti-ideologica. Non figlia di un partito. E che si qualifica per le proposte che sui vari capitoli, cominciare dalla geopolitica, cominciare dal sistema fiscale, dal modello di welfare, ad esempio, il rapporto con l'Europa. però non basta declamare, non basta far promesse. Gli italiani sono stufi delle promesse. Bisogna sapere argomentare. Cioè dire capitolo per capitolo, far vedere la sequenza delle conseguenze che l'implementazione di certi atti verrebbero a determinare. Quindi il modo cattolico non più oscillante tra destra, sinistra, centri-destra, centri-sinistra? Ma esatto. Soffocato dagli uni e dagli altri? Esatto. Non ha più senso. Ma quella è stata, che ha avuto una certa fase storica, ha avuto qualche significato. Oggi vediamo quello che sta. E da dove lo vediamo? Dal fatto che va a votare solo la metà per cento. Quello è il vero problema. Sua moglie è un'economista. Mia moglie è una storica economica, alla cazza degli storici economi contemporanei. Siete conosciuti all'università? Ci siamo conosciuti all'università cattolica per una ragione molto contingente. Io ero al dipartimento, allora si chiamava istituto di economia, lei invece all'istituto di filosofia e storia. Doveva fare una tesi e i libri che le servivano per la tesi erano nella biblioteca del mio istituto. E allora è cominciato a venire a chiedere i libri al bidello incaricato e così l'ho vista. Ho visto che era un po' scassata e le ho fatto subito una proposta. E lei diceva, ma anche io ho pensato che tu eri scassato. Ah, proprio così? Colpo di fulmine? Dopo due mesi eravamo sposati. Veramente? E tutta la vita parlare di economia e di storia di economia? No, no, parliamo di mille cose. Senza litigare? Abbiamo celebrato le nostre d'oro nell'ottobre scorso. Complimentissimi. Poi subito dopo la laurea siamo andati a Oxford, dove siamo stati quattro anni, facevamo il dottorato, lei nel suo settore, io nel mio, e lì sono nate le figlie. Lei sa bene che questa coda della sua testimonianza di scienza è altrettanto importante, vero? Ma sì, perché soprattutto i giovani vogliono chiaramente l'elaborazione del pensiero, però hanno bisogno di vedere che quel pensiero si incarna e si incarna in una storia di vita, altrimenti i giovani non seguono più chi, pur essendo brillante, non sa offrire un indirizzo di vita. Chiudiamo sempre con una musica, scelga lei se vuole essere, non so, un ino alla gioia all'Europa, un canto pontificio o una canzone d'amore per sua moglie? Devo dire che su questo fronte sono un poco impreparato, nel senso che ricordo le canzoni della mia giovinezza, in particolare una mi è rimasta per una ragione contingente, quella azzurro di Celentano. Perché? No, ma per una ragione contingente, perché in quei mesi io stavo finendo il servizio militare di Lemo. Viene fuori all'inizio dell'estate e parla della condizione di solitudine che il giovane al quale Celentano faceva riferimento vedeva a trovarsi nella Milano abbandonata. Neanche un prete per chiacchierare. Esatto. E quindi associavo quelle parole della canzone alla mia condizione di vita. E quindi ogni tanto, a distanza di tanti decenni, la ripeto. Penso che abbia trasmesso, come dire, un principio che è opportuno non lasciar cadere. E comunque prendiamo il treno, prima o poi. Esatto. Grazie professore. Grazie a voi. E buon lavoro davvero. L'importante però è divertirsi.